Oggi siamo qui all'interno sportivo, a succellare l'ulteriore rinnovo della convenzione, normalmente come Presidente della Federazione non posso che essere contento di questo ulteriore avvicinamento che c'è stato tra noi all'interno sportivo, questo ha vantaggio di quello che può essere l'ulteriore sviluppo e soprattutto vicinanza verso il mondo sportivo. Grazie.